17 ore di requisitoria e infine le richieste di pena. Il pubblico ministero Giorgio Falcone ha chiesto l'ergastolo per i fratelli Freddy e Deborah Sorgato, mentre è più lieve la richiesta di pena per Manuela Cacco, 16 anni e 8 mesi, grazie soprattutto alla sua collaborazione con gli inquirenti. Freddy e Deborah hanno ascoltato le richieste impassibili, solo Manuela Cacco ha fatto un sospiro di sollievo per la richiesta meno pesante nei suoi confronti e grazie a lei infatti che, riconosciuto in un video con addosso il giubbino di Isabella Noventa a passeggiare per le piazze di Padova, gli investigatori sono arrivati all'arresto dei fratelli Freddy e Deborah Sorgato. Secondo la lunga e meticolosa ricostruzione fatta di filmati e intercettazioni, la ragnatela tessuta dal terzetto intorno a Isabella Noventa la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016 è stata studiata nei minimi dettagli da Freddy e Deborah, che hanno coinvolto anche Manuela Cacco in una trappola per avvicinare la segretaria di Albignasico che aveva interrotto le frequentazioni con Freddy, soprattutto perché lui voleva frequentare altre donne, convincerla a mangiare una pizza con il camionista ballerino con il pretesto di chiarire la relazione e poi invece intrappolarla nella villetta di Noventa Padovana, dove, stando alle ipotesi formulate in aula, sarebbe stata stordita con un taser e poi uccisa. Questo spiegherebbe l'assenza di sangue in cucina, dove sarebbe avvenuta l'aggressione, dove più volte erano stati inviati gli uomini della scientifica e addirittura i cani molecolari. Freddy e Deborah Sorgato e Manuela Cacco sono accusati di omicidio volontario premeditato, sottrazione e soppressione di cadavere, oltre ai reati di stalking e simulazione di reato contestati solo a Manuela Cacco. Il pubblico ministero ha chiesto però per Freddy Sorgato anche una misura aggiuntiva, la sorveglianza per cinque anni dopo il fine pena nel caso non arrivasse la condanna all'ergastolo e il sequestro di beni per 800.000 euro per garantire un risarcimento alla famiglia di Isabella. Il processo precede con rito abbreviato e dopo le repliche della difesa e delle parti civili, dovrebbe arrivare la sentenza già a giugno.